Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti. La risposta è che per comprendere chi sono gli interlocutori bisogna capire chi è dentro e chi è fuori dal PD. Chi si propone come alternativo al PD è fuori dal partito. Brava, bis! Verrebbe da chiedere alla Grella, lei ed Enze, che avete sostenuto il ricorso al Tribunale contro il congresso del PD Irpino, siete dentro o fuori dal partito? Oppure ancora, state con un piede dentro e l'altro fuori, ma soprattutto con il cappello in mano?